finalmente è arrivato l'agoniato 18 maggio si riparte riapertura e si torna finalmente dal baro picchiere io ho scelto naturalmente il mio parchiere di fiducia luigi a quale del buonasera c'è anche il suo figlio aiutante tu sei adriano incredibile allora sempre qua ormai Adriano non lascia mai allora il geligianizzante grazie veramente facciamo anche sull'altra mano e vediamo come si sono adeguate con le nuove disposizioni famose disposizioni anti questi sono il kimono che sono il kimono monouso una cliente da questa parte è un altro cliente da questa parte quindi sono più di tre metri di distanza poi abbiamo le mantelline tagli monouso abbiamo detto geligianizzate anche al lavaggio e poi due lavaggi li abbiamo separati momentaneamente con questo in attesa del plex perfetto poi voi come opererete come operiamo operiamo due persone alla volta quindi un cliente per me un cliente per il dipendente a distanza di tre metri i lavaggi preferiamo utilizzarli alternando alternando nei clienti e niente quindi lavoriamo come ci dicono ogni cliente ci igienizziamo le mani cambiamo i guanti ecco qua indossi anche guanti visiera giusto la visiera solo quando si effettuano dei lavori in cui il cliente deve togliere la mascherina perfetto in più ogni volta che il cliente finisce il servizio viene igienizzata la postazione con i prodotti adatti gli viene igienizzato la la porta dove tocca la maniglia e niente questo e poi a fine giornata si disinfetta tutto con i prodotti certificati quanto è stato difficile rimanere chiusi per tutto questo periodo è stato difficile sia a livello psicologico sia a livello economico però l'abbiamo dovuto fare l'ultima domanda cosa ti aspettavi dal governo e quasi in effetti poi il governo ha fatto per te per la tua azienda quello che aveva promesso il governo erano secondo me tutte delle ottime delle ottime proposte invece il problema è che non ci arrivata ancora niente è arrivato solo il la parte di marzo solo per me per i dipendenti cassa integrazione non è ancora arrivato un euro il mese di aprile niente il mese di maggio non si sa nel frattempo tu quante spese sono arrivate le bollette di casa le bollette del salone le affitti il mutuo che morano in due mesi senza lavorare se ne sono andati oltre 2000 euro senza entrate neanche i 600 euro di marzo che però per fare la spesa per far mangiare mia moglie mia figlia e mettere il piatto a tavola e quindi adesso ricominciamo con la speranza che si riesce a finire l'anno e a vedere di ripartire al meglio l'anno prossimo allora una buona ripartenza a te a tutti i tuoi colleghi il tuo settore più ampiamente a tutti i commercianti che oggi ripartono grazie grazie ciao